Secondo il rapporto del Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti, più di 6.000 bambini dell'Unione europea tra il 2011 e il 2020 sono rimasti vittime della strada. 467 di loro erano italiani. Nell'Unione europea gli incidenti stradali rappresentano il 6,5% di tutte le cause di morte in età infantile. In media dopo il primo anno di età un decesso infantile su 10 è causato da una collisione stradale. In Italia nel 2021 sono 28 i bimbi che hanno perso la vita in sinistri stradali, 23 di loro avevano tra i 5 e i 14 anni.